Si chiama Restate a Livez, la serie di proposte di attività ricreative e culturali che dal 20 agosto al 13 settembre 2015 animeranno la fine dell'estate nel capoluogo della bassa tesina. A presentare il programma, che prevede tra i resti spettacoli per bimbi, musica, cabaret e teatro, sono stati l'assessore comunale alla cultura Raimondo Pusateri e il vice sindaco di Livez Giovanni Seppi. Ci sono tutta una serie di eventi, appunto con la fine dei giovedì lunghi partono questi eventi distribuiti a San Giacomo e a Livez e speriamo appunto di una grande frequenza, diciamo così anche gli eventi, le prime risposte che abbiamo avuto dai cittadini, gli eventi sono molto interessanti e speriamo appunto di numerosi visitatori a questi eventi. Si è voluto vice sindaco un po' proseguire sulla scena del passato, no? Esatto, comunque è una continuazione anche perché abbiamo visto che già gli anni passati la risposta è stata molto buona da parte dei cittadini però non solo, anche dei turisti e anche da persone fuori dal comune e quindi abbiamo voluto continuare con questi eventi per dare continuità però vedere anche di dare un nuovo light out perché ogni tanto piccole modifiche fanno anche bene. Con l'arte e la cultura si crea il senso della comunità per questo motivo, ha spiegato l'assessore Pusateri, abbiamo voluto proporre anche quest'anno dei momenti di aggregazione e intrattenimento per i nostri concittadini e guardando al futuro la volontà è quella di avere ancora più un occhio di riguardo anche per gli ospiti di Livez nell'allestimento della rassegna. Il prossimo anno vedremo se fare un qualcosa di più continuo, che abbia un appeal anche nei confronti delle persone che soggiorrono a Livez che sono in un numero molto considerevole, quindi ecco forse se riusciamo a dare anche un qualcosa anche a questi turisti di passaggio sarebbe senz'altro positivo per la collettività. Il programma Restate a Livez parte il 20 agosto con Lucio & Lucio, tributo a Lucio Battisti e Lucio Dalla. Non mancano in cartellone anche i big nazionali come Flavio Oreglio che con Ridendo e Sferzando sarà a Livez il 30 di agosto.